buongiorno a tutti buon lunedì da casa zengavò noi ci stiamo preparando perché oggi abbiamo qualche appuntamento per chi volesse torna al quizone a sport italia quindi alle ore 20 come l'altra volta detto finto entusiasmo bellissimo mentre rosina sarà da barbara esatto quindi oggi vi scartavetriamo le balle anche in tv e chino cosa fa oggi dorme dorme e magna e magna tanto